Buongiorno a tutti, ben ritrovati, cari telespettatori di FanoTV sul canale 17, anche questa mattina cominciamo con la rassegna stampa alle 7.30 in diretta, in replica alle 9.10 e alle 13.30, un'occhiata ai giornali di oggi con tutte le pagine sportive e vedremo anche cosa ha fatto il Fano, ma ormai i più lo sanno e poi ci sono anche le notizie di cronaca che vedremo tra poco. Il santo del giorno prima, Sant'Agnese Segni, il sole è sorto alle 6.18, tramonterà alle 19.56, una bella giornata di sole oggi, guardate che bella fotografia scattata dalla nostra webcam, fa un po' fresco, 4.4, 4.5 gradi, la temperatura è registrata alle 7.30 del mattino, con un picco verso il basso di 3 gradi registrato alle 5.5 di questa mattina. Allora andiamo a vedere invece le previsioni con la protezione civile delle Marche, che segnala per oggi un cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime in ulteriore, in lieve diminuzione, invece quelle massime sono in ripresa. Per la giornata di domani, martedì 21 aprile, avremo un cielo sereno poco ruoloso, con temperature in lieve aumento. La parte centrale della settimana sarà caratterizzata da condizioni di forte stabilità. Allora, a Fano, quando ieri sui siti internet è uscita la notizia di quell'aggressione ai danni di un ristoratore, un noto ristoratore di Fano, subito si sono scatenati i commenti, in particolare sui social network, su Facebook. Un gruppo di minorenni, un gruppo di ragazzini, ha circondato un ristoratore che stava andando a gettare l'immondizia dopo che l'ultimo cliente era uscito dal suo locale e hanno cominciato a dargli addosso. Prima con le parole, poi uno di loro, uno di questi ragazzini minorenni, ha sferrato un pugno al titolare di questo ristorante che poi ha chiamato i carabinieri e quant'altro. Allora, andiamo a leggere subito questa notizia. Cominciamo dal resto del Carlino. Circondato e picchiato dalla Baby Gang, la disavventura di un ristoratore del Lido, titolare della Taverna dei Pescatori. Lo vedete nella fotografia, si tratta del titolare Filippo Ravagli, 45 anni, dicevo del titolare del ristorante della Taverna dei Pescatori, zona Lido di Fano, dice stavo andando a gettare l'immondizia dopo che si era andato l'ultimo cliente, saranno state verso, insomma, l'una e mezza di notte. Mentre avevo in mano le bottiglie da gettare via, mi vedo circondare da 5, 6 o 7 ragazzi. Ho capito subito che erano in cerca di pretesti, ma ho cercato di allontanarle. Poi c'è il racconto, il racconto dettagliato di quello che è successo, ma vediamo anche sugli altri quotidiani come raccontano questa vicenda. Ristoratore aggredito da una baby gang, insulti e un pugno in faccia. Ravagli dice non denuncio nessuno, ma a Lido siamo in balia dei delinquenti. Invita questi ragazzi a comportarsi civilmente, viene circondato, spintonato e colpito al volto. Le reazioni, reazioni anche politiche, Santorelli, ex assessore, i vigili tartassano solo chi lavora. La solidarietà a Filippo Ravagli viene espressa dall'ex assessore, oggi consigliere comunale di progetto Fano Alberto Santorelli, per l'aggressione subita da una baby gang. Tralascio le considerazioni di carattere sociale in riferimento appunto alla baby gang. Sostiene Santorelli e chiedo invece al sindaco di intervenire, in quanto è inaccettabile che in queste settimane i locali del Lido e dell'Arzile, i loro clienti vengano costantemente tartassati dai vigili e dalle forze dell'ordine, con controlli e multe e con l'unica colpa di lavorare e dare lavoro, mentre i delinquenti di quartiere agiscono indisturbati, mettendo a repentaglio l'incolumità dei lavoratori e dei residetti. Questo è il Corriere Adriatico. Invece il messaggero, aggredito da baby bulli, che lo sfidano, gli dicono toccaci, tanto siamo minorenni. A Fano, altro sabato sera di tensione a Lido, nel cuore della Movida, il ristoratore Filippo Ravagli circondato e preso a pugni e spintoni, sono allibito, dice lui, gli avevo solo detto di smettere di fare chiasso. Il gruppo di ragazzini fermato e identificato immediatamente dai carabinieri, che tra l'altro gli hanno mostrato addirittura le foto, quindi sanno già tutto, sanno perfettamente chi sono questi ragazzini. Molti su Facebook hanno puntato il dito non solo su questi minorenni, insomma, spesso i figli sono lo specchio di chi c'è a casa, quindi più che i minorenni sono i genitori, quelli che andrebbero presi e portati, ai quali puoi spiegare bene un po' come vanno le cose nel mondo, ma poi qui entriamo in un dibattito un po' più complesso. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Dunque, c'è un'altra notizia di cronaca. Un giovane partito da San Marino con il suo perampendio, che però a un certo punto sopra Gabice ha avuto qualche problemino ed è precipitato nel bosco, i rovi attenuano il colpo e pensate, per fortuna, ne è uscito in leso, la caduta a Vallugola, protagonista un trentenne che appunto all'altezza di Vallugola ha perso quota ed è precipitato e deve la vita, scrive Claudio Vincenzetti, deve la vita al suo angelo custode che lo ha fatto atterrare sui rovi annullando quasi gli effetti della caduta. L'allarme è stato rapido perché alcuni residenti hanno visto la vela cartocciata ed hanno chiamato subito i vigili. Poi più sotto, maestra ancora grave, giorni di trepidazione, ancora drammatiche le condizioni di salute di Livia Cardinali, 56 anni, maestra della Don Bosco, travolta l'altro ieri alle 8 del mattino sulle strisce pedonali di via Ponchielli, appeso. Guardate qui invece come i segni evidenti del morso di un cane nella gamba di una ragazza che poi ha postato la fotografia su Facebook, Laura Biagiotti di Pesaro, che ha dato la notizia dell'aggressione subita in giro per Pesaro da un cane lasciato libero. Ancora dal giornale pesarese, capitaneria, nuove regole e più sicurezza, i bagni dotati di piscina dovranno integrare la sorveglianza. Spiagge libere monitorate, mentre l'estate che verrà alla Baia di Pesaro, lettini in anticipo e gratuiti nel prossimo fine settimana. Open date di tre stabilimenti balneari, poi il sole è assicurato. Un cuore è una città, sempre Pesaro, povertà e anche relazioni che non ci sono. La Caritas pesarese riparte dalla famiglia solidale. C'è stato un convegno a Palazzo Antaldi dove appunto si è parlato di povertà. La Caritas ha fotografato la propria attività per una visuale aggiornata su povertà e risorse disponibili. Don Marco Di Giorgio dice La nostra città è fatta di tanti pezzetti, la priorità è lavorare in rete. Il convegno si intitola Un cuore, una città, che è stato aperto ieri appunto da Don Marco Di Giorgio all'auditorium di Palazzo Montani Antaldi. Allora, andiamo adesso sulla pagina di Senigallia, del Corriere Adriatico. Un SUV, uno dice vado al bar, prendo qualcosa, prendo anche un po' di sole, tranquillo, poi a un certo punto ti piomba addosso un SUV come quello che vedete nella fotografia pubblicata sul quotidiano anconetano. Un SUV finito tra i tavolini di un bar sul lungomare di Marina di Montemarciano per un malore del conducente che ha perso il controllo. Sono stati feriti tre ragazzi seduti appunto in questo bar. C'erano anche dei bambini, per fortuna insomma, alla fine tutto è andato per il meglio. Questo automobilista a un certo punto non ha visto più niente. Buio all'improvviso mentre sta guidando a causa di un malore ed è piombato sui tavolini di un bar e ristorante dopo aver perso appunto il controllo. È successo ieri intorno alle 10.45 sul lungomare di Marina di Montemarciano. Non è in gravi condizioni, quattro feriti, per fortuna non gravi, compreso questo 68enne di Montemarciano che si trovava al volante della Nissan. Da Pesaro invece un rogo, un rogo in via Cimarosa, un casolare distrutto, le fiamme avrebbero origini accidentali, fortunatamente all'interno non c'era nessuno. Però ecco, questo è il risultato di questo casolare abbandonato che si trova in via Cimarosa distrutto dall'incendio e i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare l'incendio. La pagina di Fano, abbiamo visto la notizia dell'aggressione. Andiamo dunque sul messaggero, poi daremo un'occhiata anche allo sport. Messaggero in apertura, le parole di Luca Ceriscioli, candidato alla presidenza della Regione Marche, che se la prende un po' con Piepoli, il sondaggista, e dice che quel sondaggio non è credibile. Perché? Perché Ceriscioli contesta i numeri che danno un testa a testa tra lui, Ceriscioli e Spacca, le liquida, le bolla come fantasie. Nella lista del centrodestra invece in Lizza tra gli altri c'è Carloni, c'è anche Amerla e Del Vecchio. E come vedremo tra un istante, anzi lo facciamo subito, Ceriscioli dice, Ceriscioli contro Piepoli. Se Spacca è al 35%, il centrosinistra allora è al 70%. Il candidato del PD è irritato e non riconosce il sondaggio dell'istituto. Io sono al 42%, dice Ceriscioli, ma non cita la fonte. Nel periodo né il campione. Spacca sotto, Spacca dice, io mi sono dovuto candidare, mio malgrado, questo per colpa del Partito Democratico. È stata presentata la lista a Pesaro, dove c'è anche l'ex presidente della Fiera Formica. Forza Italia, accordo in nome dell'imprenditorialità, dice. Ok, andiamo adesso sulla pagina, su questa pagina, pagina 29 del messaggero, perché Matteo Ricci adesso se ne è uscito con un'altra novità, un'altra idea, cioè quella della polizza sul sole, l'assicurazione sul sole. L'anno scorso ricorderete tutti quanti, insomma abbiamo avuto una stagione devastante, con tante piogge, abbiamo veramente goduto su tre mesi di estate, sia no di un mesetto. Perché? Perché pioveva sempre. Ecco, allora quest'anno il sindaco di Pesaro, anche per cercare di attirare l'attenzione dei miglia nazionali su questa novità, su questa idea che ha tirato fuori, si è inventato la polizza sul sole, l'assicurazione sul sole. Ne ha parlato con i concessionari di spiaggia, i responsabili, i titolari, i titolari quali hanno ovviamente cercato, parlato con i Lloyds, insomma, alla fine però i costi sono troppo alti e dicono loro non riusciamo a sostenerli e l'assicurazione di fatto dunque, questa idea è archiviata. Però Matteo Ricci torna alla carica e dice io non demorto, perché è una grande idea che ci aiuta ad accendere i riflettori sulla città, in particolare su uno dei temi che interessa di più ai vacanzieri, cioè il meteo. Ancora le altre notizie dal giornale, l'Isippo, la statua dell'Isippo, le 100 città, chiede di fermare la collaborazione con il Getty Museum, al Ministero per i beni e le attività culturali, dice sospendete ogni collaborazione con il Trust Getty sino alla restituzione, la città di Fano, della statua della teta vittoriosa dell'Isippo. Questo perché c'è una mostra presso la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze dove è in corso appunto questa mostra per il ritiro di tutte le raffigurazioni della statua accompagnata dall'edizione Bronzo Getty. Una storia un po' particolare che è venuta fuori nei giorni scorsi. Allora, che va approfondita, ma adesso non abbiamo tempo qui sulla nostra segna stampa. Andiamo a vedere invece adesso le pagine sportive perché dovevamo parlarvi velocemente del grande successo del Fano ieri a Teramo dove ha vinto 4-1 contro il San Nicolò. San Nicolò che tra l'altro è andato in vantaggio, ha segnato l'ex Bartolini, quindi Fano pungolato dal gol di Bartolini scatena però l'inferno nel finale. Ed è stato veramente un gol dietro l'altro. Tutti da vedere stasera dopo il Tg, Bartolini segna e si fa cacciare perché poi viene espulso. I Granata dunque in quel momento si svegliano dal torpore e infilano un sacco di gol al San Nicolò. Alessandrini, allenatore del Fano, qui vedete con invece Epifani, allenatore del San Nicolò, cattiveria e cinismo da grande squadra. Dopo la squalifica avevo bisogno, dice Sartori, di una iniezione di fiducia. Spero di ripetermi nel derby che ci sarà tra l'altro domenica prossima allo stadio Mancini. Vis contro la Vis Pesaro. Vis che ha perso ieri in casa contro il Giulianova. Nassi gol, la Vis ripiomba adesso nell'incubo retrocessione. Il Giulianova vince con un tiro, i biancorossi girano a vuoto e perdono la lucidità. Il Corriere Adriatico parla di poker del Fano. L'inseguimento dunque alla Maceratese continua, anche se poi ci sono poche speranze. Ieri la Maceratese ha vinto all'ultimo secondo. Bartolini illude il San Nicolò che poi viene travolto. L'Alma è sempre a meno 6 della Maceratese ma allunga sulla San Benedettese che invece si allontana al terzo posto. Carattere e personalità, noi sempre a testa alta. Alessandrini dice e parla di grande vittoria. Qua sotto invece le pagelle con Lorusso e Gucci fanno la differenza. Chiudiamo con il messaggero. D'Antoni gol, Maceratese quasi ormai in Serie C. Sotto Fano non molla, poker al San Nicolò. I Granata ci credono fino in fondo anche se in Abruzzo riescono solo nel finale a raddrizzare una partita storta. Gucci pareggia il vantaggio locale dell'ex Bartolini. Poi Lorusso e Sartori lo girano negli ultimi minuti. Alessandrini dice bravi ad uscire da una brutta situazione. Dunque partita tutta da vedere. Quella di questa sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia che andrà in onda come sempre alle 20.30. Grazie per aver seguito invece la rassegna stampa che torna domani mattina alle 7.30. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS